Per quanto riguarda, Ivan, la gara, vedo il centro di Giovannelli con un ospite di riguardo. Ettore, a te la linea. Sì, allora sono con Rubens Barrichello, ancora la sua per adesso, ma fra poco ci sarà questo annuncio del tuo arrivo in Ferrari. Adesso non posso dire niente. E quando ci dirai qualcosa di più preciso? Fra un po', fra un po'. Grazie. È un po' teso Rubens Barrichello, ma è comprensibile.